siamo già metà giugno e fa già caldissimo siamo tutti spiaggiati sul divano sul letto sotto al condizionatore e speriamo tutti di arrivare sani salvi a settembre l'unica soluzione o le uniche soluzioni ovviamente per scampare a questa affa insopportabile sono ovviamente piscina e mare altrimenti se come me siete a casa a beverarsi o nutrirsi di cose molto fresche sul canale trovate già delle ricette il video sulle bevande rinfrescanti anche i caffè freddi ma da oggi inizio con una serie di ricette fresche che ovviamente non prevedano forno e cotture lunghe quindi ricette fresche partendo proprio dalle insalate fresche a base di frutta e verdura sono insalate assolutamente non convenzionali quindi non vedrete tonno o mais e le solite cose che mettono tutti nelle insalate ma saranno appunto fatte con ingredienti che di solito si usano in altri modi oppure non si abbinano fra di loro ogni insalata infatti prevedrà un po di frutta e un po di verdura e verranno abbinate cercando di bilanciare un po' quelli che sono i sapori che dovremmo tutti mettere nei nostri piatti prima di iniziare con la spiegazione quindi partire dalla prima ricetta vi ricordo di iscrivervi al canale se il video vi piacerà soprattutto perché ho intenzione di mettervi altri video con cose fresche e credo che vi possano interessare e poi mi raccomando fatemi sapere se il video e le ricette vi piaceranno con un like o un commento a fine video detto questo vi ho fatto scorrere una bella carrellata di ingredienti che io fortunatamente ho preso tutti dall'orto ma altrimenti si possono trovare quasi ovunque in questo periodo mi raccomando se potete scegliete verdura e frutta da coltivatori biologici o comunque che facciano un po' più attenzione così potete usarne anche la buccia la prima insalata che facciamo è la più fresca e sicuramente la mia preferita è a base di cetriolo pesche e feta e poi andremo ad aggiungere delle foglioline di basilico che ci stanno veramente benissimo la prima cosa che facciamo è andare a tagliare il cetriolo in questo caso è un cetriolo abbastanza digeribile ma con una buccia un pochino spessa che può non essere piacevole motivo per cui io vado a pelarlo ma non del tutto perché voglio comunque mantenere le vitamine i minerali che sono presenti nella buccia quindi pelo una striscia sì e una no taglio poi il cetriolo a metà e lo faccio a fettine più o meno regolari più le faccio sottili più sarà piacevole da mangiare perché il cetriolo può essere un po' impegnativo per chi non ama le cose un po' croccantine tagliato il cetriolo che lo metto direttamente in ciotola vado a preparare le pesche in questo caso io uso le pesche tabacchiere perché quando ho girato il video c'erano solo queste già pronte però vanno benissimo anzi anche meglio le pesche noce oppure le netarine in questo caso io vado a togliere la buccia perché quella delle tabacchiere la trovo un po' fastidiosetta però se fossero noce o netarine la lascerei assolutamente sempre per il discorso di minerali e vitamine tolgo ovviamente il nocciolo e poi taglio anche la pesca più o meno delle stesse dimensioni del cetricolo ho poi preso del basilico freschissimo l'ho sciacquato velocemente sotto l'acqua e lo vado a tagliare il più velocemente possibile con il coltello meno lo spappoliamo e lo tritiamo meglio è perché si conservano le sue proprietà e i profumi soprattutto non si ossida una volta tagliato a strisce più o meno sottili ma va bene com'è anche se sono un po' diverse meglio perché così si sente diversamente nell'insalata lo vado ad aggiungere al resto degli ingredienti nella mia ciotola e posso condire l'ultimo ingrediente che vado ad aggiungere che apporterà la giusta sapidità al mio al mio piatto al mio contorno insalata è la feta io la sbricciolo direttamente perché la preferisco sbriciolata piuttosto che a cubetti e poi vado ad aggiungere l'insalata un goccio d'olio e sono a posto non serve sale ovviamente perché c'è la feta altrimenti lo metterei se non vi piace la feta potete usare un altro formaggio però cercate di bilanciare con il sale il resto del gusto la cosa particolarmente buona di questa insalata è il fatto che il cetriolo e la pesca che sono tendenzialmente dolciastri hanno un buonissimo contrasto con la feta o comunque anche se non mettessi la feta ma del sale darebbero comunque un bellissimo contrasto in bocca del dolce salato se non la consumo subito la vado a mettere in un contenitore chiusa la posso conservare in frigorifero fino a 3-4 giorni seconda insalata è a base di melone cipolla e zucchine in questo caso la cipolla a me piace metterla ma può essere anche omessa e non sostituita con altre cose diciamo che è la parte un po più saporita di un'insalata che normalmente sarebbe un po dolciastra e acquosa la prima cosa che vado a fare è quindi tagliare la mia cipolla a fette più sottili possibile così si sentirà meno il suo gusto forte e soprattutto si sentirà meno la consistenza della cipolla cruda se non avete delle cipolle particolarmente dolci le mie sono di tropea quindi veramente dolci potete passarle nell'aceto in acqua e aceto per circa 15 minuti così perderanno il loro carattere un po troppo forte nel frattempo comunque potete tagliare anche il melone che va privato dei semi sbucciato e affettato a pezzi più o meno regolari l'ultimo passaggio è il taglio delle zucchine che vanno prima private di pochissimo picciolo e sedere chiamiamolo così ma veramente poco mi raccomando non tiratene via un dito un centimetro come vedo fare sempre e poi usando una classica grattugia da cucina le andiamo a ridurre in striscioline possono anche essere tagliate a cubetti o in altro modo però questo è uno dei modi più corretti e più piacevoli per mangiare le zucchine crude se l'idea della zucchina cruda avete storto il naso vuol dire che non avete visto il mio penultimo video qua su youtube che appunto riguarda le zucchine e con il quale vi ho insegnato che si possono mangiare assolutamente le zucchine crude sono anche molto buone e ricchissime di vitamine nutrienti quindi se non le avete ancora provate questa insalata è un ottimo motivo diciamo così per provarle e capire che si possono mangiare anche così una volta tagliati gli ingredienti li andiamo a mettere nella ciotola e li condiamo con un filo d'olio un po di sale foglioline di menta che ci stanno benissimo e poi a piacere possiamo anche aggiungere un goccio di aceto di mele oppure aceto balsamico mescolo bene e anche questa insalata può essere impiattata direttamente se non la consumo tutta come prima la metto in un contenitore ben chiuso la conservo in frigo altrimenti va finita subito ve lo assicuro se volete la potete anche accompagnare anche questa con della feta perché ci sta benissimo altrimenti con un altro tipo di formaggio con dei legumi per avere un piatto ancora più completo oppure potete servirla come contorno a piatti di pesce o carne l'ultima insalata è a base di fagiolini rapanelli e lamponi anche questa bilanciata nei suoi gusti perché abbiamo l'acidità abbiamo il pungente del rapanello abbiamo la dolcezza del fagiolino la prima cosa che andiamo a fare per prepararla è la pulizia e la cottura dei fagiolini quindi tagliamo le estremità senza fare troppo spreco anche se so che pulire i fagiolini è un po' una rottura di scatole quindi si tagliano un po' grossolanamente dopodiché le andiamo a sbollentare in acqua salata per circa 5-10 minuti non devono diventare verde militare devono rimanere belli verdi accesi ed essere anche un po' croccantini perché è così che si dovrebbero mangiare i fagiolini seconda cosa che vado a fare che è super opzionale vado a tagliare il gambo della cipolla che ho usato prima il gambo della cipolla si usa è buonissimo super aromatico e molto più fresco della cipolla io in questo caso lo aggiungo ma in realtà potete anche ometterlo perché sono necessari gli altri ingredienti piuttosto che questo però non si sa mai se volete provare pulisco i rapanelli rimuovo la radice e poi li vado ad affettare molto sottilmente con la mandolina si può anche usare un coltello però di solito è un po' più difficile tagliarli quindi vengono delle fette un po' spesse e poco piacevoli diciamo così poi se a uno piace il rapanello va benissimo se non siete dei grandissimi amanti ridurli in fettine molto sottili vi aiuterà metto i rapanelli e la cipolla in una ciotola aggiungo i miei lamponi che possono essere anche fragole tagliate a pezzetti oppure mirtiglio comunque un frutto un po' acidulo che possa stare bene con queste due verdure un filo d'olio un bel pizzico di sale e poi quando sono pronti aggiungo anche i fagiolini cotti per comodità poi li riducco già in pezzetti ma possono anche essere lasciati interi siccome con il lampone i rapanelli sta benissimo l'aceto di mele ne vado ad aggiungere un bel cucchiaio che è facoltativo ma vi assicuro che sta veramente bene mescolo tutto insieme e posso lasciare riposare in frigorifero così i sapori si intensificano posso quindi conservare in un contenitore chiuso per circa 3-4 giorni altrimenti la servo subito e va finita anche questa potete abbinarla anche qui a legumi altra verdura oppure a piatti di carne tipo carne bianca oppure pesce magari un po' più sostenuto come ad esempio la coda di rospo ora nei commenti voglio sapere da voi quale di queste tre insalate vi è piaciuta maggiormente la mia sicuramente la prima come vi ho detto però anche le altre due si fanno molto rispettare fatemi sapere se le farete così se farete variazioni se vi piaceranno se le abbinerete a qualcosa in particolare io aspetto di leggervi nei commenti aspetto magari anche un vostro like se vi va di supportare il mio lavoro e farmi capire se vi piace e mi raccomando iscrivetevi al canale perché nelle prossime settimane arriveranno altre ricette fresche